musica 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 è bello a tutti ragazzi qui è Teo e qui una salsa barbecue questo è il panino e questo è la salsa barbecue lì è giovanni 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 qui è furetto cazzo conto questo rumore e io sono disagiato ok ho detto che facevamo la sfida ragazzi anche se vi avevamo detto che era sarebbe stato con 100 e solo che madonna lo picchierai ogni volta ne ha una ragazzi hashtag matteo cucine di merda tutto insultato vedete perchè ne abbiamo 40 lui ha detto che tanto manco con 40 vedremo alla fine li mangeremo noi dato che io nei video non ci sono mai perchè devo sempre tenere io la videocamera stavolta a terra basta it's me sei zitto disagiato lo sai che ti hanno adottato disagiato di me ce ne ho fatto male ce ne ho fatto male ce ne ho fatto male mi ha dato mi ha dato un pugno del naso per sbaglio salutate la camera devi muoverti mi ha dato mi ha dato non ti ricordati è passato 30 secondi adesso che lo stai mangiando vieni qua in cima a te ragazzi 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 come mongolo hashtag fedemongolo nei commenti oltre a insultare ciccio ma vieni qua ma non c'è ragazzi mi piace guarda Samantha la mamma di madre ma sei rimbampito ma sei di tantissimo guarda che non devi finire la sua mamma sono così tipo ma così guarda che ci sono tutti eh minchione no vedi che sei dislessico sei disagiato vedi te la tiro in testa guarda questo video te la tiro in testa mettiamo mettiamo anche il scuccio della mio ciccio tanto non rimane questo video sempre lo piano su Giovanni guarda ciò ciao che rabbia mi sono per l'odio guarda guarda gli chiedo ma che ci sono 40 almeno 50 like 30 no perchè per carità ti trova la faccia questa perchè non ne stai mangiando manco 2 se ne abbiamo no io al minimo minimo 20 mi piace 20 ok vai 20 20 20 mi piace a parte perchè è un evento che siamo tutti insieme ed è una rarità c'è anche Giovanni che minchia guarda un po' che faccia cià mi pari appena uscito da Occi i pari appena uscito da Auschwitz no che è un po' di sale sono venti bellissimi venti di sale lì no vengono tutte le salse raga lui è bellissimo è la mia storia io stasera non mangerò mi so vai la fede dai un po' di salsa ciccio è bluuuuuuu questa parte sto dovrete ripenлиccare poi poi giuu giuu mai che minchio vai tieni prima Inf searches mangio cosa stai facci- che storta dai 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 desi potri ho fatto dai 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 troll li prendo a ferrò regalo di nuovo abbasso abbassati, abbassati dai abbassati ma un vomito abbassati ma quante sei arrivato dai vado e c'è anche la fame vero hai visto che non bastavano 40 e' stupido no 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 cosa non ce n'hai più io mi sto mangiando il mio cazzo sta raccontando palle paggionate ai miei tempi ti dicevi che non bastavano Andava in galera, Mussolini ti rinchiudeva Adesso i bambini sono vinciati dal primo morso Non mi va, non mi va E tu mamma mia Adesso dicono che non gli piace la roba Perché la paga mamma e papà Io la dovevo sudare i miei tempi Vabbè? Dove sganciare i soldi Lavoravi in stalla, tenavi le capole, le mucche Questo è loco, mi trovi Ancora più di merda questo No ma cosa? C'è ancora due Vabbè ora i primi video Adesso gli vengono con me La seconda portata io gli ho rubato Che cazzo ci c'ho in lei, mangio più io Appunto Perché le sfide non le fanno, non le fanno io Perché te lo pensi Non ti fai nei video Ma di me è sempre te Che bello non ho loco che be Che bella tua madre Non così La tigra di Luke Non lo so Mi madre ha detto che è orrenda Io dico che tua madre è orrenda Però allora non te la scoperesti Non si vede Non ho risposto Ragazzi faremo anche noi forse la crossbar challenge perché abbiamo un giocatore in squadra che è più storto di Surry Madonna Anzi due giocatori in squadra più storti di Surry Lui Lui che inciampa da solo Però almeno becca la palla E lui che manco Lui non becca la palla Se la mangia la palla Ma cosa vuole mangiare la palla che non riesce mangiare manca 20 meccaniche? Oh, la domanda di Fede Dove andiamo a farla? Campe da caccia quel in Italia non ci sono Gli hanno aboliti E' uscito il decreto Andiamo all'Ilva Chi è che scassiamo sempre? Sto minchione E' uscito l'efficiente Il padre è sto bastardo? Ancora 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 Un bidone Un bidone Un bidone Un bidone Sei soltanto un bidone Un bidone Chiamate il telefono e' duro Non ho luogo ci tratta ma' E' un barile di merda Eh come va? Mangia un barile di merda Che storia? Questa per fare una foto E' un'altra foto Non stai facendo nessuna foto E' un video Oh Poi mi guardo io il video Ma che schifo Madonna Stai zitto E' più bella la mia lingua di te E' efficiente Ma stai zitto Che è sto migliasto Migliore Che battuto originale Non me ne venivano in questo Non me ne Non me ne Non è italiano Cazzo sei rumeno? Mongolo? Sono cinese Sono Udinese Come sto ricoglionito No Già va Vai apri quello Apri quello Ok ragazzi 3 25 like 25 Ok fa schifo Fa schifo Di nuovo Mi ritenta Sarei più fortunato Secondo tentativo Ma fa cosa a prendere? Fa schifo di nuovo Vai Ultimo sei fottuto Ma fa schifo Fa schifo E' un deficiente ciccio Non ho penso pure cieco Tra l'altro Selezioni la cosa di ciccio Si Vai ciccio Bello rosso Saluta Bello rosso Ha fatto così Ha fatto una faccia Sembrava un mongoloide Arrivò aspetta Eccolo qua Zen ragazzi Ora li prendo io Perché ce l'ho più bello Che bello No 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 Eh? Ma cazzo conti Ma stai andando Ma dove cazzo va? Ma dove cazzo va? Che cosa vado a prendere adesso? Ma cosa cazzo basta? Non mi ha picchiato Non mi ha picchiato Non mi ha picchiato Ragazzi ciccio si è ammazzato Dimmi che sei visto Dimmi che sei visto Si penso di si C'ero davanti Ero Per destra Ah Perché dovete capire che ciccio Sei già rotto una volta il ginocchio Per bene Quindi adesso No 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 Non è un piccione ambulante Pure rosso Mal funzionante Non serve a un cazzo Ciccio togliti madonna Devi mangiare di più Più velate Basta Giovanni Che cosa Ce la fai? Ce la fai? No Dammi nemmeno di breve No 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 Non ce la fai? No Vai metti quello Se lo fai madonna Tagatagata Ma cosa non ce la fai? Mangia Mangia Lo mangio io uno Mangia Ragazzi il vero del è che è un ciccio di merda Non ce la fai Ma più che altro Ammettiamolo Noi siamo venuti qua Non tanto per fare la sfida Ma per fare un video tutti e cinque insieme Perchè la sfida tanto si sapeva che sarebbe venuta puttane perchè No perchè ragazzi E' un ciccione di merda Ci aveva detto fin dall'inizio che non c'aveva fame sto ciccinino L'abbiamo fatto per fare un video tutti e cinque insieme no? Per farci un pomeriggio tutti insieme E quindi Mi sta come idea Tu Logu cosa dici? Allora Dico che ci c'è un minchione perchè non ha finito neanche questa sfida Ma sapete che gli speciali le faccio male? Non mi chiamate Questi McNuggets sono veramente buoni Poi c'è da dire che lui La prossima sfida sarà Nonno Logu contro Food Ooooooooo Abbiamo deciso così perchè questo qua non mangia manco boh Quanti ce ne sono? Lasciate sotto nei commenti cosa vuole E appunto Non cose schifose perchè io non me lo vedo Se volete anche il mio pisello io lo trovo molto volentieri Quello si molto volentieri Mi può dar al finale racconto La ahahah Ma voglio la semoay A pazzo Dun está чисca Facciamo braccio di ferro vieni Peng Braccio di ferro vai Vieni insieme a lui Vieni insieme a lui Allora andiamo sulle giustrine Aspetta rifi Uno Due Tre confrontation Aspetta vai 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 c'è un bambino vai entra oddio un bambino ah ah vomito sto per vomitare ci ciao aspettami ok la ci sono i minchioni se si vedono ragazzi guarda che c'è ragazzi questo video lo vede troppo ragazzi sta venendo lungo 2 km tanto poi lavorate io e poi gli utai ok andiamo ora scendiamo dallo scivolo ragazzi andiamo vedi qua lo scivolo ciao ora scenderemo in modalità vita ecco manco scivolo è uno scivolo che non scivola questo non so ragazzi è uno scivolo che non scivola non so non so perché è uno scivolo che non scivola è uno scivolo che non scivola è passato in macchina lì l'ho fissato da lato per tempo una serie eseggiata così ragazzi 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 raga mille mi piace perché Matteo ha tagliato ha tagliato ha tagliato ha tagliato detto ha tagliato non capisce mai un cazzo questo ragazzo è proprio un disagiato eccolo lo possiamo dire fai te l'auto non c'ho insomma faccio io la faccio io la faccio io la faccio io allora ho fatto schifo però comunque vada lasciato mi piace perché eravamo tutti insieme 20 20 mi piace no 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 30 mi piace ma che 30 è uno speciale ho fatto la D 20 mi piace ragazzi perciò e e e e e e commentate qua sotto 25 25 like perciò qui da matt and fast o ciccio perché non so capace ecco è tutto da logo bella raga da giovanni milkshake datti ho c'è il chicken burger freddo wow ciao ragazzi ciao ragazzi ti vediamo a spegnere ti vediamo a spegnere puletto laaaaaaa i wanna dance by water with the mexican sky rickson margaritas by blue lights listen to the mario to play at midnight are you with me are you with me ciao 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 ciao